Un lungo corteo giallo di trattori con claxon e agricoltori muniti di fischietti e bandiere di col diretti, questa mattina Pescara ha attraversato un corso Vittorio Emanuele interdetto al traffico, partendo dalla centralissima piazza della Repubblica con destinazione finale Piazza Unione, davanti al Palazzo del Consiglio regionale, dove l'associazione di maggiore rappresentanza dell'agricoltura italiana ha portato le istanze dei propri scritti, piegati e piagati dalle continue incursioni dei cinghiali nei campi, che danneggiando le produzioni locali stanno mettendo in ginocchio un'intera categoria. La manifestazione della Confederazione dei Coltivatori Diretti, organizzata a livello nazionale anche in altre piazze italiane, ha scelto Pescara per il raduno regionale degli agricoltori abruzzesi, che chiedono interventi urgenti al Governo, come spiega Roberto Randazzo, direttore regionale di Coldiretti Abruzzo. L'obiettivo della manifestazione è sensibilizzare la Regione, il Governo regionale, che si adotti di un piano di contenimento per la fauna selvatica. Purtroppo, ora come ora, c'è un piano di contenimento elaborato nel 2022 a seguito della peste suina. Questo però non è sufficiente. Nel giugno 2023 il Governo ha cambiato l'articolo 19, permettendo alla Regione di dotarsi di un piano di contenimento a livello regionale. Quindi siamo qui a sensibilizzare la Regione Abruzzo, come in tutte le regioni d'Italia, che si adottino di un piano di contenimento serio. Purtroppo ci sono 150.000 cinghiali che stanno girando per l'Abruzzo, in modo libero, che girano per le campagne, ma purtroppo girano anche per le nostre strade, causando delle vittime. Quali sono i danni che contestate? Quasi un milione e mezzo di danni, però sono danni stimati, perché purtroppo per la prassi burocratica, molti dei nostri associati non fanno più la denuncia, in quanto ci vuole una perizia, ci vuole una perizia tecnica. La prassi burocratica è anche troppo complicata a fronte di quei piccoli spiccioli che la Regione mette a disposizione. La soluzione quindi quale sarebbe? La soluzione è di adottare questo piano di contenimento, che prevede una serie di motivazioni in più. Esempio, guardie volontarie, sempre dotate di licenza di caccia, guardie volontarie che possono essere anche i nostri associati, di poter cacciare. Adottare un piano che si possa cacciare tutto il periodo dell'anno, compreso martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio. Avere anche un piano di contenimento, anche la cattura dei cinghiali per poter devastare un attimo le nostre terreni agricole. Siamo qui anche per la tutela del Made in Italy, Made in Italy che è il nostro cibo, i nostri soci che coltivano il cibo. Ormai il cibo è diventato un business per tanti, purtroppo un business anche per le multinazionali. Non possiamo dare adito all'associazione Mediterranea, un'associazione creata da Focon Faricoltura all'inizio di quest'anno, in simbiosi con le multinazionali. Sicuramente quelle multinazionali non sono per il cibo italiano. Se il governo non vi darà retta, cosa farete? Noi siamo convinti che il governo ci darà ascolto. Se il governo non ci darà ascolto, oggi siamo qui in alcune migliaia e centinaia di trattori. Sicuramente torneremo tra 30 giorni con ancora più gente, nonostante i lavori in campagna, ma torneremo per presidiare la regione. Confidiamo nella sensibilità politica della nostra regione.